Manifesti per sensibilizzare i padroni, distributori di sacchettini e multe per chi sgarra. Al via la campagna di insensibilizzazione del Comune sulla raccolta delle direzioni canine. Ne parlano l'assessore Ilaria Cristiani e il consigliere Sergio Maggi. Siamo molto contenti di aver finanziato questa ulteriore proposta del bilancio partecipato, che quindi ci viene da una cittadina pavese, sulla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle direzioni canine. Questo è uno dei passi che portiamo avanti per migliorare il decoro della nostra città, il primo, nel senso che quello che dovremmo fare in generale è di potenziare i controlli e anche dare sanzioni ai cittadini che in qualche modo contribuiscono purtroppo alla sporcizia della nostra città. Questo perché ci sembra importante ricordare che se tutti fanno un piccolo gesto, la città è pulita e oltre a questo i costi che gravano poi sulla collettività per la pulizia diminuiscono drasticamente. Le direzioni canine chiaramente sono qualcosa di cui tutti i proprietari dei cani si devono prendere cura di raccogliere proprio perché è loro responsabilità la cura del cane e quindi anche la cura della città in questo senso. Siamo una delle città in Italia, questo vorrei ricordarlo, che ha una percentuale talmente alta di cani regolarmente iscritti microcippati e di famiglie che in pratica se abbiamo circa 7.000 cani iscritti vuol dire che il 30% delle famiglie pavesi ha un animale domestico, un cane. Ecco perché è questa opportunità di creare una sensibilizzazione, io auspico, alle persone perché possono effettivamente raccogliere ciò che il proprio amico e fedele amico fa durante il loro percorso, durante la passeggiata, ma naturalmente tutto questo deve essere anche un'opportunità per sensibilizzare l'adozione.